Assessore Berrino, Comune di Sanremo e Regione insieme per dare una possibilità agli over 60 che non hanno un impiego e vogliono giustamente far parte del mondo del lavoro. Sì, un progetto che la Regione ha lanciato nel 2017 all'interno del progetto Over 40 c'è questa particolare misura degli over 60 che è destinato ai comuni che attraverso i loro bandi possono col finanziamento regionale assumere, dar lavoro o meglio a persone che abbiano già compiuto 60 anni, che non siano ancora dati in pensione, che siano naturalmente disoccupati. A questi lavoratori che potranno fare le cose più disparate, poi le libertà dei comuni e destinarli alle attività che meglio preferiscono, andranno a 750 euro al mese come stipendio ma soprattutto avranno i contributi figurativi interamente versati che quindi avvicineranno di un anno alla pensione. È una misura che è stata particolarmente apprezzata, infatti il bando si è esaurito in pochissimo tempo, hanno aderito tantissimi comuni in tutta la Liguria, sono particolarmente felice che anche il Comune di Sanremo abbia aderito a questo progetto e che sia quello che numericamente darà lavoro a più di over 60 anni in assoluto. Quindi un grande successo per Regione Liguria questo bando è stato. Ha detto che il bando è andato esaurito, molti comuni hanno aderito, vuol dire che c'è tanta richiesta a livello regionale, quante persone? È difficile dare i numeri però avete più o meno una stima di come sta andando? Questo bando ha dato lavoro, sta dando perché molti cantieri partiranno come qua, saremo nei prossimi mesi, ha dato lavoro complessivamente a oltre 170 persone. Naturalmente questo se è bello perché 170 persone hanno trovato lavoro grazie a questo bando denota anche un preoccupante fenomeno di disoccupazione anche tra chi è alle porte della pensione. Quindi naturalmente il successo è dovuto a questo però sono felice che i comuni e gli enti pubblici abbiano capito e si siano impegnati perché questo bando appunto avesse successo. Assessore Pirieri, il Comune di Sanremo insieme alla Regione fa squadra per dare un lavoro e magari qualche speranza in più agli over 60 che sono rimasti senza un impiego. Certamente sì, è una bellissima risposta. Il Comune di Sanremo ha aderito subito a questo progetto, ha presentato un suo progetto per 13 persone da collocare in vari ambiti del nostro Comune. Uno agli uffici demografici, 10 per quanto avverte il discorso cimiteri, aiuole e giardini e 2 per quanto riguarda musei e manifestazioni culturali. Questo dà la possibilità a over 60 di avere comunque per un anno una possibilità di lavoro. La Regione finanzia per quanto concerne lo stipendio, l'emolumento a queste persone che è 750 euro mensili e il Comune si fa carico delle spese contributive. Questa iniziativa dà modo anche di fotografare un po' la situazione su Sanremo. Quante richieste ricevete? Sono tante, immaginiamo. Beh, assolutamente sì. Io giornalmente, posso dire, nei miei uffici e servizi sociali ricevo persone ovviamente di una certa età, ma anche dei giovani che vengono e mi chiedono il lavoro. Purtroppo questo non è nel mio ambito, non abbiamo la disponibilità, però questo darà sicuramente una minima risposta alle persone che senza lavoro non sono ancora arrivati all'età pensionabile e quindi dà almeno per un anno una certa disponibilità. Grazie a tutti.